Un quaderno e una penna sono stati i miei primi strumenti per entrare nel mondo delle parole, che inizialmente volavano nell'aria come bolle di sapone, che invidono la dimensione di rompente del gioco. La scrittura è Catarsi, è un tour subacqueo e aereo che effonde un benefico e fluvio di Ginevro e crea una gem station che Apertis Verbis, con parole esplicite, abbellisce la realtà di sogni come bolle di sapone che improvvisamente spariscono, però hanno il mento di aver regalato un attimo di stupore a noi tutti. E la vita è una concatenazione di attimi di stupore. Un abbraccio di parola dalla vostra Nostella.